Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. L'ascensione di Gesù è un evento significativo nella vita di Cristo, un momento che segna la fine del mistero terreno di Gesù e l'inizio del suo regno in cielo. È un momento di celebrazione, di ricordo e di rinnovamento del nostro impegno a seguire i suoi insegnamenti. Prima di entrare nella preghiera, riflettiamo sulla profondità di questo evento. Gesù, dopo aver trascorso 40 giorni con i Suoi discepoli, mostrando loro la verità della Sua risurrezione, è asceso al cielo, promettendo che avrebbe inviato lo Spirito Santo per guidarli. L'ascensione non rappresenta solo l'elevazione fisica di Gesù al cielo, ma segna anche un punto cruciale nel progetto salvifico di Dio. E' la promessa di Cristo che non saremmo mai stati lasciati soli e che attraverso lo Spirito Santo avremmo avuto la forza e la guida per vivere secondo la Sua volontà. Ora, mentre ci prepareremo ad entrare in preghiera, ricordiamo l'amore infinito che Gesù ha dimostrato attraverso la Sua vita, la Sua morte e la Sua risurrezione. Celebriamo la Sua ascensione, accogliamo la promessa del Suo Spirito e rinnoviamo il nostro impegno a vivere secondo i Suoi insegnamenti. Preghiera dell'ascensione di Gesù Padre Celeste, Santo e Misericordioso, il Tuo amore per noi è così grande e profondo che hai mandato il Tuo unigenito Figlio, Gesù Cristo, per redimerci dal peccato e portarci alla vita eterna. Come noi, ci raduniamo qui oggi, riflettiamo sulla Sacra Ascensione, il momento in cui Gesù è risorto ai Cieli, completando il Suo percorso terreno e stabilendo il Suo regno in cielo. Gesù, nostro Salvatore Maestro, ricordiamo il Tuo sacrificio supremo sulla croce, Ricordiamo il Tuo amore incondizionato, la Tua compassione e la Tua guida. La Tua risurrezione ci ha riempito di speranza e la Tua ascensione ci ha assicurato della Tua presenza perpetua tra di noi. Tu sei il Figlio di Dio, il nostro intermediario con il Padre e ci hai promesso il dono dello Spirito Santo. Nella Tua ascensione, Gesù, abbiamo visto la promessa del nostro futuro, il desiderio di elevarci oltre i confini di questa vita mortale, per abbracciare la santità che Tu hai preparato per noi. Ci hai chiamati a seguire il Tuo esempio, a vivere con amore, a servire gli altri e a riflettere la Tua luce nel mondo. Accogliamo la Tua chiamata, Gesù, e cerchiamo di seguirti ogni giorno. Ci rivolgiamo a Te, per la forza, quando la vita è difficile, per la pace, quando siamo in tumulto, per la gioia, nel mezzo della tristezza. Confidiamo nel Tuo amore per noi e nel Tuo perdono, quando ci perdiamo. Spirito Santo, guida e conforta, Chiediamo la Tua guida, come Tu hai disceso sugli Apostoli dopo l'ascensione di Gesù, discendi anche su di noi. Riempici con i Tuoi doni, la saggezza per comprendere la volontà di Dio, il coraggio per seguirla, la pazienza per aspettare il Suo tempo e l'amore per risplendere della Sua luce. Gesù, mentre ascendevi al cielo, hai lasciato ai Tuoi discepoli e a tutti noi una missione, andare a fare discepoli di tutte le nazioni. Inspira in noi un amore ardente per la Tua parola e un desiderio di condividerla con il mondo. Padre Celeste, mentre ricordiamo l'ascensione di Gesù, ci impegniamo a vivere come hai insegnato. Noi siamo le Tue creature, destinati alla gloria eterna che hai riservato per noi. Guidaci sulla via della santità e conduci alla Tua presenza eterna. Ci affidiamo a Te, Gesù, nostro Salvatore, che con il Padre e lo Spirito Santo vivi e regni, Dio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Salvatore,